Tornando ai casi di Amantea, nuove proteste dopo l'esito dei tamponi effettuati sui migranti ospiti del centro di accoglienza Ninfa Marina. 25 positivi lunedì, dopo che tre cittadini extracomunitari erano risultati appunto positivi, erano stati subito effettuati 97 tamponi dal personale dell'USCA agli ospiti della struttura che si trovano nel centro di accoglienza del comune sul Tirreno Cosentino. Oggi sono arrivati i primi risultati e la cittadinanza è scesa nuovamente in strada, così come era successo ad inizio luglio. Un centinaio tra cittadini e commercianti hanno partecipato alla protesta che si è svolta in tranquillità chiedendo l'immediato trasferimento dei migranti e la chiusura di due centri di accoglienza. Il problema, dice una cittadina scesa in strada, è che fino a questa mattina questi ragazzi sono usciti e sono andati a lavorare nei campi senza alcun controllo. Solo per questo siamo preoccupati per la salute di tutti noi. Le forze dell'ordine intanto stanno presidiando la struttura per evitare ingressi ed uscite, mentre i migranti positivi sono stati posti in isolamento in alcune stanze della struttura. Forze dell'ordine ed esercito vigileranno i centri di accoglienza per i migranti di Amantea e Rende, dove sono state riscontrate diverse positività, come detto, tra gli ospiti.